Il tema della famiglia è certamente uno di quei temi cari a cari tasticino e il sinodo sulla famiglia evidentemente ci è interessato e ci è interessato molto. Il tema della famiglia ce l'abbiamo sugli schermi con la nostra serie televisiva Arcipelago Famiglia con Graziano Martignoni. Dante, tu hai ascoltato tutta la relazione finale del sinodo, una lunga relazione. Ci ho messo solo due ore e nove minuti. Però di sintesi ininterrotta, c'è una cosa praticamente non prendere spiro. Ecco. Per cui, ma devo dire, mi aspettavo appunto un documento meno denso, meno complesso, invece è un documento ricchissimo, tra l'altro con un taglio curioso, nel senso che viene ben calibrato il rapporto fra dottrina teologica, morale, quindi le cose che in qualche modo la Chiesa ha sempre detto nei confronti della famiglia, e un atteggiamento che ricorda molto di più la dottrina sociale della Chiesa. Quindi la dottrina riguardo all'economia, riguardo alle condizioni del mondo. Insomma, mi ha ricordato la Caritas in Veritate più che altri documenti. Ecco, ho tenuto conto che, vabbè, questo è un documento consultivo, bisogna ricordarlo. Ecco, forse questa cosa qua non è mica stata capita, per il fatto che il Papa ha partecipato a questi lavori, uno dice, vabbè, ma se era lì esce un documento del Papa. Non è vero. Non è vero. Intanto il Papa, vabbè, in teoria potrebbe ignorare addirittura. Le conclusioni del sinodo non lo fa di solito il Papa, vedete, se promuove un sinodo è perché ha intenzione di riflettere con la Chiesa intera. Questo Papa ha un atteggiamento comunque di ascolto nei confronti dei suoi vescovi, quindi non lo farà. Però è pur vero, tant'è vero che, per esempio, il sinodo precedente sull'evangelizzazione ha fatto uscire un'esortazione apostolica come l'Evangelii Gaudium, quindi di fatto, come dire, si è mosso in questo caso. Quindi il documento del sinodo è importante, ma è una sorta di suggerimento al Papa. Poi il Papa deve lui vedere cosa farne. Deve vedere cosa farne. Ecco, ma cosa sono le cose che ti hanno colpito? Intanto non ci si poteva aspettare, evidentemente, che la Chiesa cambiasse opinioni riguardo alla famiglia. Cioè la famiglia è quella che la Chiesa ha sempre considerato, cioè l'unione di un uomo e di una donna, orientata anche all'accoglienza dei figli e quindi con la promozione di tutte le famiglie che di questo tipo sono portatrici. Però è pur vero che in questo documento c'è una grande attenzione, un grande ascolto di tutta la realtà complessa della famiglia. Per esempio non si pensa alla famiglia in termini spirituali e teologici senza tenere conto delle condizioni materiali, economiche, sociopolitiche, culturali, nelle quali la famiglia oggi si muove. E non solo la famiglia occidentale, ma la famiglia di tutto il mondo. Quindi se capisco bene un invito a considerare la famiglia, ma la famiglia nel suo contesto dove vive, insomma. Sì, io direi la famiglia vera, ecco, nel senso più pieno del tema. Cioè quella che è tant'è vero che questo discorso poi vale anche per, da una parte per il linguaggio usato. Per esempio spesso e volentieri nel documento vengono citate frasi di Papa Francesco, ma prese anche da momenti informali, cioè nel senso momenti come, non so, quando lui è in aeroporto. Quindi non solo frasi, per esempio, dell'esaltazione apostolica, Evangelii Gaudium. Per cui con la tipica espressione del Papa che è molto ad effetto, non so, lui in un certo punto dice bisogna ricordarsi che i divorziati e i divorziati non sono scomunicati, punto. Cioè non sta a spiegare poi. E questo è tipico, insomma, del modo di parlare suo, ma è stato preso anche dal sinodo come un modo per potersi esprimere in maniera più diretta e vicina alla gente. Questo secondo me è importante. Hai citato la questione che ha fatto, che ha generato fiumi di inchiostro e reportage televisivi e non è ancora finita, evidentemente. Qui è, per esempio, un articolo di Introvignie che dice che ci sono quattro bugie che sono state raccontate. Sì, certo. Una delle quali è la comunione ai divorziati e risposati. Soprattutto i media italiani hanno diffuso l'idea che va bene, il problema era risolto. Fuori dall'Italia si è stati forse un po' più cauti nell'interpretare queste cose. Si è fatto bene perché comunque nel documento non c'è, intanto non c'è una frase che dice la comunione ai divorziati e risposati nel senso stretto del termine. Cioè non c'è... Cioè non viene mai citata... Non è citato l'accesso al sacramento dell'Eucarestia. Ecco, non è citato. Viene citata una piena partecipazione alla Chiesa e questo evidentemente dà adito a possibili letture. Ecco, perché piena partecipazione significa accesso ai sacramenti che finora non c'è. si potrebbe significare. C'è invece chi la interpreta in un altro modo. Esatto, c'è chi invece dice no, piena partecipazione vuol dire essere riconosciuti come membri della comunità ecclesiale, poter essere nella comunità attivi, per esempio nella catechesi dei ragazzi oppure come padrini. Cosa che prima non si poteva fare. Cosa che prima non si poteva fare. Per i divorziati e i risposati, attenzione, non per tutti. Sì, 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 no, no, certo. Poi la cosa è complicata anche lì. E comunque questa cosa qua è un consiglio dato al Papa, non è un'indicazione per la Chiesa che diventa operativa domani mattina. No, no, intanto è un consiglio dato al Papa e poi comunque è inserito in un contesto molto, molto, molto ampio, molto complesso. Quando si fa questo discorso è alla fine di un percorso in cui si comincia con le coppie in difficoltà oppure le coppie che dopo sposate nei primi anni devono essere seguite perché è un periodo delicato. Quindi si parte da lì, cioè dalla coppia che non ha nessun problema ma che semplicemente si trova a essere sposata e magari vive di quell'isolamento che spesso le coppie vivono all'inizio del matrimonio e magari hanno delle difficoltà e non le comunicano e non possono condividerle con nessuno. Da lì si comincia, ma anche lì si dice attenzione non tutti sono uguali, noi non facciamo di ogni erba un fascio perché c'è chi si è risposato perché ha avuto degli altri figli e ha voluto garantire a questi figli un futuro con un compagno. Cioè ci sono... C'è un riferimento alla responsabilità personale, no? C'è un riferimento alla responsabilità personale e alla imputabilità. Cioè la dottrina è una cosa che ha un suo valore assoluto evidentemente in quanto guida, in quanto orientamento, in quanto posizione precisa della Chiesa, ma poi si dice dentro questo la responsabilità di ciascuno è commisurata alle possibilità che concretamente ha. Ecco, ma per le famiglie che sono alla ricerca di un modo per vivere la propria esperienza di fede, ci sono delle novità da questo punto di vista o si limita a ribadire cose che bene o male chi vuole ha già incontrato, letto? Allora sul piano pratico non dice grandissime novità, nel senso che ci sono alcuni posti in cui queste cose si fanno, semplicemente concretamente, cioè le famiglie sono partecipi della pastorale, della realtà comunitaria, della diocesi, eccetera, eccetera. È vero che però questa è una realtà che capita in pochi posti, no? Mentre il sinodo, in ogni suo documento, dice che è ora che la famiglia sia considerata protagonista, soggetto della pastorale e non oggetto di pastorale. Quindi soggetto dell'esperienza educativa, soggetto dell'esperienza di partecipazione dei sacramenti, soggetto di formazione del clero, per esempio, una novità che mi ha colpito, nel senso che probabilmente se ne è accennato altrove, io non lo so, devo essere sincero, però qui è significativamente presentata, cioè è ora che la famiglia entri nei seminari e racconti ai sacerdoti, che diventeranno sacerdoti, molto sulla realtà psicoaffettiva, sulla realtà comunionale, sulla possibilità che la famiglia diventi, come dire, uno spazio di contributo alla formazione dei sacerdoti. Questo secondo me è un bel lavoro e comunque è necessario, credo. Nella nostra serie sulla famiglia con Graziano Vartignoni abbiamo dedicato una puntata alla grossa tematica del gender. Mi pare che nella relazione finale se ne parla. Allora, il punto 8 del documento, i punti sono divisi in numeri come i documenti ufficiali della chiesa, hanno tutti i numeri, uno, due, sono 94 i punti. Il punto 8 parla della teoria del gender, dice che la teoria del gender è assolutamente in contrasto con la realtà e qui viene citata una delle frasi lapidaria che dicevo prima di Francesco, che dice la indifferenziazione dei sessi è il problema, non è la soluzione. Punto, fine. Per cui è molto chiaro. E lì nel documento viene chiarito il fatto che appunto la teoria del gender è assolutamente contraria ad una buona maturazione anche della realtà sociale e umana, quindi non è solo un problema teologico, non è solo perché Dio ha creato l'uomo maschio e femmina e allora bisogna credere che i maschi e femmina sono diversi e non riducibili, ma semplicemente perché è una difficoltà per la struttura sociale, antropologica. culturale della nostra realtà e sarebbe una perdita enorme l'indifferenziazione e viene condannato con chiarezza il fatto che alcune organizzazioni impongono per esempio la teoria del gender per dare aiuti ai paesi in via di sviluppo. Questo è condannato seriamente e così come viene condannato una formazione nella scuola con alcuni programmi, soprattutto in alcune scuole, si parla delle scuole europee, dove appunto in alcuni programmi viene divulgata la teoria del gender e anche a livello molto precoce, ecco se viene condannato questo con chiarezza.